Arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Arona, mentre cercano di rubare in una casa nella zona di via Sempione, due marocchini di 24 e 22 anni sono finiti in manette nel pomeriggio di sabato. A chiamare il 112 è stato il proprietario che se li è trovati nella villetta, per lui una seconda casa. I due giovani avevano forzato la porta d'ingresso e il cancello e si sono introdotti. Quando hanno capito di essere stati scoperti, sono fuggiti a piedi lungo via Sempione, ma la loro fuga è durata poco perché sono arrivati i militari che li hanno acciuffati ed arrestati in flagranza di reato. I due sono irregolari sul suolo italiano e per loro saranno quindi avviate le pratiche per l'espulsione dal nostro paese. Il giudice Donatella Banci Buonamici questa mattina ha convalidato l'arresto in flagranza.